Licenziamenti alla Non-Wovens di Mozzate, avviata la trattativa tra aziende e sindacati, un primo incontro esplorativo che non ha portato ad alcuna decisione. Già convocato un nuovo confronto per giovedì prossimo in Confindustria, rinviata alla prossima settimana anche l'assemblea con i dipendenti, confermati in tanto sciopero e presidio altranza. La società ha avviato la procedura di licenziamento per 57 lavoratori. La precedente assemblea dei dipendenti, in assenza di risposte dall'azienda, aveva deciso di proseguire nella protesta. La decisione non è stata modificata dopo l'avvio della trattativa, che non ha portato al momento a risultati concreti. Lo stabilimento di Mozzate è specializzato nella produzione e vendita di rotoli di tessuto non tessuto per la realizzazione di salviette. La volontà dell'azienda è di interrompere la produzione, che al momento è ferma, entro l'estate. Dai 92 lavoratori totali rimarranno in servizio solo i dipendenti dei reparti amministrativo e commerciale. I lavoratori dell'azienda di Mozzate sono in sciopero dal 22 gennaio scorso.